Valentina, so che tu hai un figlio di undici anni, quanto mi costi o scuola mia? Allora sicuramente la scuola incide, allora io ho un bambino di undici anni che comincerà la prima media quest'anno, l'ho iscritto alla scuola privata, quindi già lì partiamo con una retta scolastica che incide intorno ai 330-340 euro al mese e a questa vanno aggiunti testi scolastici che alcuni libri serviranno per tutti e tre gli anni delle medie e incidono intorno al, c'è una spesa intorno ai 300 euro annui. Tecniche di risparmio? Allora come tecniche di risparmio nella scuola di mio figlio per esempio è stato istituito un mercatino interno, i ragazzini di terza media che escono dalla scuola vendono i propri libri e li mettono a disposizione a prezzi ovviamente buoni, adeguati per i ragazzini che entrano in prima media. La cancelleria e soprattutto i buoni mensa incidono? Assolutamente sì, è un costo aggiuntivo, intorno ai 5 euro a buono pasto al giorno, ovviamente se un bimbo è iscritto al tempo normale questo non incide nel costo e se viene iscritto ad un tempo pieno ovviamente la spesa aumenta.